Rafforzare la campagna di vaccinazione regionale aggiungendo nuovi punti per la somministrazione delle dosi. È la richiesta che arriva dai sindaci dell'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo, i quali hanno sottolineato l'esigenza per i territori di Pesaro, Vallefoglia, Tavullia, Monbaroccio, Gabice Mare e Gradara di aumentare almeno a 4 il numero complessivo delle sedi previste dove effettuare le inoculazioni. Una richiesta già mossa alla regione dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci e che si è rafforzata dopo gli episodi intercorsi al centro Monaldi nel quale durante l'ultima settimana a causa di alcuni problemi tecnici e dell'inizio delle somministrazioni per il personale scolastico si sono registrati diversi ritardi rispetto alle prenotazioni effettuate dagli over 80. Noi chiediamo almeno 4 punti, 2 su Pesaro, 1 Vallefoglia e 1 a Gradara come minimo perché abbiamo già visto in questi giorni basta la rottura di un computer o il mettere tutti insieme gli anziani con gli insegnanti che si crea il caos. Servono più punti, noi stiamo mettendo a disposizione tutti i centri anziani che hanno già dato la disponibilità, abbiamo già guardato grazie agli industriali diversi capannoni, quindi dobbiamo cambiare registro perché così non va. 10.000 ottantenni in un unico punto è difficile vaccinarsi, 10.000 ottantenni più il personale scolastico è difficile vaccinarsi in un unico punto, cioè sono numeri abbastanza chiari. Come ricordato anche dal presidente dell'Unione Pian del Bruscolo, Palmiro Occhielli, l'individuazione di nuovi punti permetterebbe anche minori spostamenti soprattutto per le persone più anziane, residenti nei diversi comuni e nei piccoli centri abitati, ad oggi costrette a recarsi nella sede pesarese. Tra le strutture individuate, quelle della Casa della Salute, il Palavitria Vallefoglia e il BCC Palace di Gradara. Metteremmo a disposizione il nostro palazzo dello sport che è una struttura nuova con parcheggi esterni molto ampie, quindi con i servizi idonei per realizzare anche lì un punto vaccinale a servizio delle comunità vicine, quindi Tavuglia e Gabicce sicuramente. Nel frattempo questa mattina i coordinatori del Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 1 hanno effettuato un sopralluogo al Centro Monaldi per verificare sul posto le criticità che hanno portato alle problematiche e ai ritardi registrati negli ultimi giorni. Più di tanto qui al Centro Monaldi come interventistica non si può realizzare perché i volumi sono quelli che sono, gli spazi sono quelli che sono. Quindi la soluzione che noi proporremo e che abbiamo in testa è quella di affiancare, più che sostituire il Monaldi, affiancargli un sito più capiente, più ricettivo che ci consente di affrontare la totalità delle richieste che alla fine della vaccinazione degli ultrottantenni ovviamente dovremo garantire alla popolazione. Abbiamo scritto al sindaco Ricci per valutare altre location sul comune di Pesaro o comunque anche su altri comuni, lui si è fatto portavoce per cercarci queste nuove location perché noi ci dobbiamo preparare alla vaccinazione di massa che non avrà i numeri che noi stiamo facendo al Monaldi che comunque sono numeri altissimi perché noi ogni seduta vaccinale fa 800 vaccini questo sito, quindi è il sito più importante in questa provincia in questo momento, però non basta. Stiamo valutando un paio di proposte tra cui anche delle industrie che ci stanno, degli imprenditori che ci stanno proponendo alcune soluzioni loro. Ci potrebbe anche un momento transitorio dove abbiamo due strutture vicine in appoggio al Monaldi. Gli ultraottantenni sicuramente rimangono qua, noi abbiamo allestito bene anche mettendo moquette come avete visto percorsi distanziati, dovremo potenziare la parte di copertura per le zone prevaccinali in modo tale che le persone possano stare in un luogo per poter compilare la modulistica e anche perché ci prepariamo nel momento in cui dovesse piovere. Quindi ci dobbiamo preparare in questo modo, ci porteranno delle soluzioni e cercheremo di prepararci entro lunedì a questa evenienza. E intanto il Monaldi per metterlo un po' più in sicurezza, come diceva il dottor Carlotti, per aumentare la recettività prevacinale. Nello stesso pomeriggio il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha comunicato che in attesa della moltiplicazione dei punti designati per le vaccinazioni sarà raddoppiato lo spazio alla celletta. Già a partire dalla prossima seduta vaccinale infatti al centro Monaldi sarà affiancata la palestra presente nell'area.